Buongiorno, oggi vi vorrei mostrare un servizio disponibile sul nostro sito. Tra tutti i naviganti e i visitatori delle nostre pagine riguardanti le piccatecce di carta e di disegni è disponibile la possibilità di prenotare una videochiamata per una dimostrazione live del prodotto scelto. Quindi compilando il form riceverete via i semessi e via il media, la data e l'ora che il nostro incaricato vi contatterà per la dimostrazione dal vivo. Il nostro tecnico vi spiegherà i vari funzionamenti della piegatrice, come usarla, come mantenerla e vi darà tutti i raguagli necessari. Quindi sarete in grado di interlocuire con il nostro incaricato come se foste in presenza nella nostra showroom e chiedere di preimpiegare dei formati più lunghi o più corti, con piegatrici manuali o elettriche. Quindi avrete a disposizione una persona che vi seguirà passo a passo per darvi tutte quell'informazione per una scelta ottima del prodotto di piegatrice. Vi ringrazio e vi incentivo a visitare le nostre pagine e compilare il form online. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.